Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi siamo qui con i Belli per fare la prima pescata a Bass Fishing in Belli del canale dunque mi raccomando ragazzi per altri video a Bass Fishing superiamo i 170 like per questo video ci saranno delle cose assurde, ci saranno delle cose assurde, non avete idea ragazzi mi raccomando lasciate like un diritto ai video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e direi quindi di tornare a pescare iscrivetevi al canale preso 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 primo bus c'è uno giornato e mi ha primo bus of the day a jerkbait io voglio stare vicini vicini tra un po' dovresti vederli anche sotto a linea in fe in teoria teoria che hai vista? teoria vai 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 ciano orco vai 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 ciano vai vai cianna passa fanna passa fanna basta Mi pazzo il Sega Sarà un 47...50 Sì Bello il bus eh Fatti Fatti Sì Sì Devi riuscire ad arrivare di attento? Quello è fatto Sento, sento Eh oh Ciano Ti scidi davanti Mi ha virato il mio belly Tita vira Molto bello Questo è il belly con la guida automatica Perni 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 Un bambino Un bambino Un bambino Un bambino Un bambino Quanto fa? Sarà 20 cm Sì 20 qualcosa anche Passiamo a definire il record di giornata No, l'altro ero più grande Mi sa Ma potevi passarci di fianco Letteralmente Un bambino Preso Un altro mini Un altro bass Bass Piccolino Mi stava portando via l'esca Ho partito via Mirare Ah cosas Watermelon pumping Sì, no no C'è un bordello quello Mangiato sullo scopo ma non l'abbiamo battuta si o di micro bass di bassetti devo visti erano a galla stanno puntando il foraggio se non sono anche qua e che gli appoggio l'esca sopra si metti i bocchi no metti un'esca piccolissima più piccola è meglio è tipo il cvt un micro vtd gli danno uh che bass questo era bello che scappato vai gianno gg gianno gg si l'ho visto ti ho detto senco spiammolata metti scusa metti quello verde la che ti ho dato io della net bait dai ramo di merda evviva con la black water preso a penelo black water black water comunque non c'è veramente il 6 il 4 etti ecco adesso lo fa sapevo che lo facevi la era ovvio no e mi ha rotto il senco si si ho visto l'ho visto l'ho visto preso peso bas texas mangue urco ciano è enorme è un gatto stavo recuperando sento botta inizio a recuperare sento era un gatto cento per cento si fidati non è tanto distante no no senco era la no no me l'ho sentito no no preso il mio senco dov'è è boh da qualche parte a fondo rilascio chiufla ma no no Grazie a tutti.